Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, è giunto il momento di vedere chi ha vinto il contest Silverstone, ovvero il contest che metteva in palio un case Silverstone Milo ML06B e come faremo l'estrazione? Potete vedere qui sul mio computer abbiamo l'elenco dei partecipanti al contest, se qualcuno di voi ha partecipato e non riesce a vedere il suo nome perché il post su Facebook risultava non visualizzabile, non siamo riusciti a vedere il vostro post e quindi non potete partecipare. Abbiamo dunque l'elenco di queste 34 persone che partecipano, andiamo a estrarre a sorte sul sito random.org il vincitore, sorteggiando un numero da 1 a 34 a caso, andiamo a vedere chi si aggiudica questo case. Il numero 4 che scopriamo essere Veronica Murroni. Bene Veronica complimenti, hai vinto un case Silverstone, verrai contattata da noi su Facebook con un messaggio privato così potrai darci i tuoi dati per la spedizione, i dati che verranno girati automaticamente a Silverstone che provvederà lei stessa ad inviarti il case. Quindi Veronica ti faccio ancora i miei complimenti, continuate a seguirci su Xtreme Hardware.com, ci saranno altri contest, potrete vincere altri premi. Detto questo per adesso da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware è tutto, un saluto, ciao ciao!